Rimarranno a Chieti fino alla fine del conflitto in Ucraina i 20 nuotatori arrivati grazie all'iniziativa del CONI in collaborazione con la Croce Rossa. Hanno dai 14 ai 17 anni e hanno percorso 10 chilometri di viaggio da Poltava. Dopo uno stallo a Leopoli sono giunti a bordo di un autobus di linea e sono alloggiati al Grandotelabruzzo, ospiti della regione. I ragazzi inizieranno nei prossimi giorni gli allenamenti allo stadio del nuoto ESA di Chietiscalo. Per loro sarà un'opportunità di tornare in acqua dal primo giorno di guerra e da allora infatti che hanno dovuto interrompere gli allenamenti. E loro la guerra l'hanno vista da vicino perché proprio il primo giorno dei bombardamenti sono dovuti uscire dall'acqua durante l'allenamento dopo il suono della sirena che ha preceduto l'esplosione di due bombe a poca distanza dalla piscina. Sono venuto a conoscenza della disponibilità del responsabile Micola del Comitato Olimpico Ucraino. Ci siamo incontrati, abbiamo iniziato questo lavoro abbastanza complicato per via delle pratiche burocratiche per farli uscire dall'Ucraina. Dopo un mesetto di lavoro siamo riusciti a portare questi 20 atleti. È stata un'ulteriore possibilità, grazie alla collaborazione con Alessio e con il CONI, di assistere la popolazione ucraina che arriva sul nostro territorio. In particolare in questa occasione ci siamo occupati del trasporto dei ragazzi che sono arrivati sul territorio chietino. Cosa le hanno raccontato i ragazzi? Allora in particolare i momenti emozionanti sono quelli che loro raccontano come la possibilità di continuare a fare una vita tra virgolette normale e quindi ad allenarsi normalmente sul nostro territorio. Quella normalità che purtroppo nel loro paese attualmente non c'è. E Chieti si dimostra di nuovo una città accogliente. Il giorno di San Giustino i nuotatori ucraini sfileranno con la bandiera ucraina per le vie del centro in occasione del Paglio dell'Uri-Kiap. Un'esperienza per loro nuova che vivono con grande gratitudine per coloro che li hanno invitati. Dico sinceramente prima cosa ringraziarvi a tutti, specialmente al governo italiano. Il Comitato Olimpico italiano.